Ilaria Ceccherini Ilaria Ceccherini che vuol girare sempre pagina praticamente ogni giorno giri questa pagina ogni giorno una pagina nuova sei insegnante d'inglese? no, sono insegnante di canto sono laureata in inglese e sono inflessibile con i miei allievi che vogliono cantare in inglese perché devi correggerli sempre allora professoressa turn the page va bene? si, turn the pages turn the pages con la S fina turn the pages con noi è la brava e simpatica oltre che bella Ilaria Ceccherini grazie turn the pages turn the pages of my life of this great big food I'm a child every plan of God's sake is a strife feels like I'm composing of dirt all alone on this bookshelf taking care of my life taking care of myself trying hard to find a reader oh my heart oh my heart e non è la brava e simpatica oltre che bella all alone on this bookshelf I take as a strife wants to tell of love and glory but a title but a title I can find though it must be there in my mind all alone on this bookshelf taking care of myself trying hard to find a reader oh my heart it's very long and I'm trying to hold on strong I see pages running full but I know that it's still worth on the writing and it's still worth all alone on this bookshelf and it's still worth who will be there thanks to my place please leave a hand i don't know oh my heart oh my heart all alone on this bookshelf Is a library And your place Is temporary Send your Liderary Heart For someone's might For someone's might For someone's might For someone's might A posto c'è fino a scarpettino A chi deve ringraziare? Grazie Lari, un bacione anche a te Volevo ringraziare I miei boys Dove sono? Eccolo qua Eccolo qua Il test è mio, però l'abbiamo poi sviluppata Ma avete cambiato pagina tutti insieme? Sì Grazie La caratteristica è che i brani Sono tutti brani inediti E anche le interpreti cantano canzoni inedite Off Off Dediciamo Isfac 31